E' un ringraziamento a Don Affonso che è sempre qui accanto a noi in questo momento così triste per benedire e porgere la benedizione di questo luogo che ormai è diventato simbolo della memoria non solo per la città di Soverato ma penso in tutta Italia perché immagino che molti di voi sapranno che poi in seguito a ciò che è accaduto a Soverato il governo ha proprio scritto una proposta di legge e poi di penulta legge proprio sui problemi del distributivo geologico di tutti i comuni d'Italia quindi grazie ancora una volta per la vostra presenza e per la stampa che diffonderà questa giornata finché appunto eventi come questo non devono più ripetersi Don Affonso In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amo Il Signore nostra resurrezione e nostra vita sia con noi